Un tuffo nel mare dell'amore Love Boat risveglia passioni dimenticate Usi ancora quel profilo? Sì Love Boat accende la fantasia Scusi, voglio un biglietto per questa crociera No signore, mi dispiace, siamo al completo È una donna fortunata, signorina Rurli Un signore voleva questo posto e non glielo ho potuto dare Ringrazio di essere una donna Love Boat, da lunedì a venerdì alle 17 Su Fox Retro E adesso un po' di pubblicità Chi si distingue, sceglie Gran Soresina Gran Soresina, grande Perché dentro c'è solo la verità Gran Soresina, la verità ci distingue Caduta dei capelli Affidati al numero uno degli anticaduta Dercosa Minexil A Minexil per ancorare i capelli alla radice SP94 per ricostruire la fibra Nuovo test, efficace in due settimane Dercosa Minexil SP94 in farmacia Da oggi all'acquisto di 18 fiale Le 12 sono gratis Luigi, ma che ci fai qua? Sai che sono cliente di Engie Direct, no? Dopo Conto Arancio mi sono aperto anche Conto Corrente Arancio È nuovo? Sì, carta di credito, prelevi bank, ma gratis Mi scusi, hai il canone? Ma no, non paga nemmeno l'imposta di pollo Apri Conto Corrente Arancio e con Conto Arancio prendi il 2,60 sulle somme in deposito per un anno Regenerist Trattamento Intensivo Trezone Vincitore del Prix d'Excellence della Bottee di Marie Claire Presenta l'ultima innovazione di Olaz Per una pelle dall'aspetto più rassodato Prima di pensare a misure drastiche Prova il nuovo Regenerist Siero Intensivo Trezone La sua formula super efficace Con il più concentrato complesso aminopeptidico di Olaz di sempre Dona un aspetto più tonico a viso, collo e décolleté in soli 5 giorni Olaz ama la pelle che hai Siamo qui per vedere la reazione di chi prova il nuovo Colgate Sensitive ProSollievo Ora vorrei che lei applicasse con la punta del dito un po' di questo nuovo dentifricio Ora beva questo bicchiere d'acqua fredda La sua prima reazione? Un effetto immediato, soprattutto efficace Immediato? Ma come fa? Allora, è la formula ProArgin Che occlude i canali aperti che arrivano alle terminazioni nervose L'uso regolare fornisce un sollievo che dura lungo Complimenti Nuovo Colgate Sensitive ProSollievo Per un sollievo immediato e duratura Provalo tu stesso Tira sulla zip E metti tutto quello che ti va Ogni volta che ti va Stagione dopo stagione Con fitness Perché con il frumento integrale Fitness ti aiuta a mantenere la linea che ami Cereali Fitness Più in forma, più a lungo E ora Fitness Chocolate Ancora più petali al cioccolato Quei petali che ti piacciono così tanto Nuovo Fitness Chocolate Più petali al cioccolato pazuta al cioccolato Capit condizornale Nessuno conosce la sua vera identità Il mio vero nome? Oh, dipende dal giorno È un uomo dai mille volti Voi sapete com'è? Ha la passione dei travestimenti Arsenio Le Pen, il più affascinante ladro di Francia Non andarci, ti sopplico Arsenio Le Pen, un perfetto gentiluomo col vizio del furto Si può dire quello che si vuole di lui, ma è un uomo preciso Arsenio Le Pen, ogni martedì alle 21 su Fox Retro